Ciao io sono Ragon, ciao io sono Lidia, ormai ci conoscete siamo qua per fare la seconda parte dei liquidi di New Flavors della ditta italiana ma prima sigla no sigla eccoci, oggi faremo la seconda parte dei liquidi di New Flavors come abbiamo detto prima tre tabacchi sempre la messa a fuoco non ci assiste prima di iniziare, intanto te guarda gli scegli io ricordo che hanno tutti i documenti in regola sono certificati, sono iscritti a TPD sono iscritti all'AMPS seguono tutti i protocolli di sicurezza hanno le schese di controllo e tutto quanto tu ovviamente cosa hai scelto? il vega il? vega vega, no non c'è scritto vega che c'è scritto? vska 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 spero che si pronunci così vska tabacco non mi piacciono i tabacosi non si dicono certe cose perchè? perchè non si dicono certe cose perchè non si dicono? pensa a tutti quelli che producono la tabacosa e ci restano male dentro poi a me personalmente, venga parlo per gli altri ogni volta che dici non mi piacciono i tabacosi un produttore di tabacosi muore è come con le fate si oddio no schiaccia io sembra frutta secca schiaccia se schiacci schiaccia vai no 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 schiaccia perchè già lo sento così sembra quasi frutta secca si frutta secca c'è tabacoso 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 proprio come al solito ci si è schizzati nel naso che mi sembra una cosa più che giusta e buona ok colore leggermente giallino quindi sicuramente avrà dentro qualcosa di estratto naturale perchè per avere questo colore linea grigia linea dei tabacchi a chi piace i tabacosi è proprio tabacoso è proprio tabacco tabacoso sembra è proprio tabacoso tabacco 100% c'è dentro non è male cioè a me piacciono è un tabacco che ricorda ricorda un tipo di sigaretta come profumo pure come sapore pure come sapore quindi sarà presumibilmente una creazione per ricordare qualcosa adesso sono curioso sono un po' più curioso sono curioso devo andare a vedere non è male tanto come voto gli do 7 7 perchè è un tabacco buono qui sono le ho girate tutte vediamo se dice qualcosa dice solo il nome e ci sento anche delle note di qualcosa di frutta secca dentro frutta secca nocciola potrebbe essere mandorla noce 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 dici per me è più nocciola noce non male non male quindi tu cosa li dai non mi non piace né tabacco così è un concetto perchè si sente bene il gusto si sente bene il gusto poi scelgo io adesso adesso facciamo scelgo io facciamo questo qua facciamo it camel dal nome presumo che ricordi presumo di sì dal nome questo è questo è più scuro guarda più più giallino ancora lo toglie questo togli questo eh sì 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 senti come profumo sì adesso si sente tanto che lo stai pulendo si sente tanto tabacco e frutta secca secondo me tra l'altro è levato tutto sì sì tra l'altro non è neanche amaro come sapore M è bello morbido no è buono come tabacco è buono ricorda le M rosse morbide forse no a me non ho la mente non c'è la sigaretta questo è più secco questo è molto più secco ah già no schiusi aspetta che c'è la goccia questo è più secco come più tabacco liscio solo tabacco forse fare i tabacchi è più complicata perché hanno varie sfaccettature è più difficile che decifrare un gusto di un altro tipo di aroma questo è più secco molto più secco sembra quasi un tabacco orientale tabacco turco tabacco non muoio se non si abitua a dei tabacchi è difficile comunque questo è un altro tabacco buono secco e a me invece a me invece a me invece i tabacchi piacciono questo qui è buono questo è forte questo è forte è secco ha un bel carattere un bel carattere come tabacco non mi dà assolutamente fastidio come tabacco non mi dà assolutamente fastidio come tabacchi poverini poverini vabbè non ti piacciono i tabacchi ok beh se non ti piacciono i tabacchi è difficile quindi io no io sto veramente alto perché mi è piaciuto molto buon tabacco buono 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 sapore secco ma non amaro cioè che difficile spiegarsi ragazzi secco non amaro che dà fastidio ma un amaro che si gusta il sapore di di un tabacco che si è seccato al sole è un sole caldo non umido ho aperto senza far vedere ora facciamo un old virginia che di solito è una miscela che si adopera nelle pipe quindi roba che adoperavo io sicuramente o nei trinciati da rollare quindi tu li hai adoperati se ma al virginia non lo prendevo e sei sicura che non c'era al virginia va che mi sa che quella che adoperavi te sia no eh no e da dove arrivava dolce eh virginia è dolce dolce si sente proprio il dolce qua ah sì quello mi piace se non se non mi tiravi la lampata di quello di prima si sentirà più aspetta calma la gente vuole sapere guarda la gente la gente vuole sapere non è che sono qui a guardarci perché siamo belli che non siamo belli non siamo belli questo è più dolce questo è più dolce grazie questo mi piace sembra sembra quasi che abbia dentro delle note vanigliate da addirittura mettilo te mettilo te colore anche questo qui di ambrato leggermente più chiaro del lip camel senti come scoppietta che contento si è dolce questo è dolce eh dica dica cosa sente dottore cosa sente dolce tabacco io non ne riconosco tanto comunque si senta pure questo tabacco mi ricordo i tabacchi da pipa che adoperavo buono buono dolce piacevole morbido tabacco per tutti perché questo qui vabbè però tornando indietro un tabacco del genere l'avresti l'avresti adoperato si adesso non sei più da tabacchi però fra i tre è sicuramente quello che ti è piaciuto di più forse no è piaciuto più il vesca si ti è piaciuto di più il vesca perché c'era la nocciola magari aveva quel quel tono più buono questo anche questo gli do 8 come sapori sono tutti 8 perché si sente molto bene si distingue molto bene si sono tre tabacchi completamente diversi uno dall'altro e noti la differenza si la differenza si nota si sente molto bene il gusto del tabacco io metterei a pari merito per i miei gusti l'old virginia e l'heat camel nonostante uno sia morbido arrotondato e dolce l'altro sia secco e più amarognolo due tabacchi uno l'opposto dell'altro ma buoni il vesca con le note di frutta secca lo metto un gradino sotto o mezzo gradino sotto perché non riscontra il mio gusto personale però sono sono buoni sono buoni anche anche i tabacchi la linea di tabacchi è buona tra l'altro ho visto che così per curiosità hanno uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici due tre quattore quindici quindici tabacchi divisi ce ne sono tantissimi qua sarebbe piaciuto provare l'havana l'havana o non so se c'era qualcosa tipo toscano quelli mi sarebbe piaciuto sentire come l'havana sicuramente l'havana c'è qualcosa tipo toscano non saprei forse si forse comunque tanta roba questa linea di tabacchi trovato un'altra linea di tabacchi che mi piace abbiamo trovato un'altra ditta che fa dei gusti con con parla bene che ti devono sentire è una ditta cosa è una ditta non è una ditta si ma se parli verso di lì il microfono è lì abbiamo trovato anche un'altra ditta che fa dei gusti che corrispondono al vero sapore ditta? ditta non lo so come ditta non lo sai ditta italiana ditta italiana sono del mio paese sono nata io quindi me ne ricordo del tuo paese sono della tua isola sono della mia isola qua c'è l'accento romano vabbè sono nata a Roma sono cresciuta a Roma ah oh sono de Sardegna complimenti veramente io concluderei qui sono rimasto sorpreso dai tabacchi sono rimasto sorpreso già le altre due linee che erano fruttati aromatici no aromatici vabbè diciamo aromatici perché erano più aromi che si facciano sentire era la linea tonici era era di buon livello la linea dei tabacchi non una cosa una cosa una cosa importante tante volte sanno di chimico non sanno di chimico perché capita capica capita capita che i tabacchi sappiano di chimico qui io non ho sentito minimamente ritugosti sapori strani quindi anche le basi che adoperano devono essere veramente belle veramente buone delle ottime basi complimenti e con questo concludiamo 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 l'anno oggi abbiamo fatto meno ridere del solito stranamente saluto tutti se li avete provati o li proverete fatemelo sapere nei commenti lasciate un like seguite il canale condividete il video attivate la campanellina e ricordo sotto vi lascio tutti i link di New Forever lascio come al solito dei compagni della mia crew che li hanno fatti li faranno anche loro quindi andate magari a guardare su Instagram le loro opinioni e basta vi lascio con le immagini del catalogo per un proseguimento ma che bella faccia ciao ragazzi ciao ciao ciao